Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Immaginate la scena, siete in classe, state sviluppando un percorso di educazione ambientale, quindi l'inquinamento e quindi il riscaldamento globale, e a un certo punto un alunno alza la mano e vi chiede professore, professoressa, ma perché gli allevamenti intensivi sono talmente dannosi per il pianeta? Allora, sapreste rispondere così su due piedi? Io non lo so. Ci aiuta, per fortuna, Jonathan Safran Foer, autore di Se niente importa, un libro che se fosse un film oggi lo chiameremmo una docu-fiction, in quanto l'autore alterna momenti di studio saggistico documentato a momenti di ricordi di infanzia, di vita quotidiana. Ascoltate questa pagina. Oggi, in ambito industriale, un allevamento standard di suini produce oltre 3.000 tonnellate di rifiuti organici all'anno. Un'azienda vicola ne produce poco meno di 3.000 e un recinto da ingrasso per bovini ne produce 150.000. Il General Accounting Office riferisce che singoli allevamenti possono produrre più rifiuti organici della popolazione di alcune città americane. Nel complesso, gli animali allevati negli Stati Uniti producono 130 volte i rifiuti organici di tutta la popolazione umana del paese, circa 40 tonnellate al secondo, 40 tonnellate al secondo. Potete immaginare la valenza, la forza, la potenza di questo libro in cui Safran Foer ci svela, da un lato, le atrocità, le violenze quotidiane negli allevamenti intensivi americani, dall'altro ci interpella sul valore, sull'etica, la dignità del cibo e infine ci conduce nel percorso avviato, nel percorso da lui avviato, verso il credo vegetariano. Jonathan Safran Foer, se niente importa, come dice Monio Vadia, un libro necessario. Leggetelo e mi raccomando venite a trovarci sempre sul nostro sito internet e sui nostri canali social.